allora eccoci qua nella lezione precedente abbiamo visto le tipologie di funnel più utilizzate nelle diverse nicchie eccetera eccetera e adesso iniziamo ad andare un po' più deep un po' più in profondità proprio per andare a capire effettivamente tutte le varie tipologie di funnel e poi come ti dicevo nella precedente video lezione sulla base di quello che è il tuo potenziale cliente o il tuo business dovrai identificare quelle che sono le strategie di funnel più adatte a te ok e come sempre se hai dubbi o domande siamo qui a disposizione io e tutto il mio team allora partiamo da un presupposto queste tipologie di funnel possono essere utilizzate sia per prodotti fisici quindi e commerce ok principalmente o magari libri eccetera eccetera sia per prodotti digitali quindi guide video lezioni gratuite corsi eccetera eccetera allora come ti dicevo nella precedente lezione VSL funnel è uno dei funnel più utilizzati soprattutto per delle leve molto importanti e come ti dicevo appunto nella precedente lezione in questo momento che registro questo è anche la tipologia di funnel che io sto utilizzando per la mia agenzia quindi per acquisire ogni giorno potenziale i clienti come è strutturato e quali sono i suoi punti di forza allora partiamo proprio da quest'ultimo quindi punti di forza semplicità perché è un funnel semplice sia in fase di costruzione sia in fase di conversione sia in fase di monitoraggio questi sono tre tasselli importanti perché se è un funnel complicato molto probabilmente perderai l'utente da qualche parte perché l'utente ama la semplicità la mente ama la semplicità quindi dove c'è qualcosa di troppo complicato finisce per perdere l'utente da qualche parte se è difficile da costruire ti richiederà o se lo deleghi richiederà dei costi esosi ma al di là di quello richiederà molto tempo quindi potrebbe rallentarti e infine altra cosa importantissima se è complicato da monitorare rischi di impiegare veramente tantissimo tempo non riesci a guardare i dati non riesci a tracciarli poi alla fine abbandoni o comunque non hai un controllo completo di quello che sta succedendo quindi semplicità e branding perché comunque è un funnel che ti può posizionare soprattutto se lo utilizzi come libro professionista consulente eccetera eccetera quindi sia che tu sia un media buyer ma in generale che se lo vuoi utilizzare per un tuo cliente o per il tuo business ti colloca in una certa posizione di rilievo vedremo tra poco perché e ultimo ma non meno importante ricavo semi immediato ovvero è uno di quei funnel che non ha una grandissima tempistica di incubazione ok argomento di cui abbiamo ampiamente parlato nel corso ne parlo nel mio canale youtube eccetera eccetera sai che la tempistica di incubazione è quell'intervallo che richiede a un utente per trasformarsi da semplice utente a tuo acquirente ok quindi è un funnel dove fondamentalmente adesso lo vediamo in struttura tu vai a convertire questo prospect in cliente anche il giorno stesso il giorno dopo due giorni dopo quindi questa finestra di incubazione è veramente molto rapida ti può sembrare assurdo ma ti assicuro che rispetto a un webinar funnel o un book funnel è veramente molto 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 più bassa come tempistica di incubazione infatti lo vedremo poi quando andremo a fare il deep focus su quelle tipologie di funnel sono funnel che comunque hanno un incubazione una finestra di incubazione importante ok quindi quando utilizzare vsl funnel quando vuoi qualcosa di semplice per i tre pilastri che abbiamo visto vuoi essere collocato vuoi che il tuo prodotto sia collocato in una certa posizione di autorevolezza e soprattutto non vuoi esporti o non vuoi che il tuo cliente si esponga troppo economicamente in termini di tempo ok ci sono webinar funnel per citartene uno che hanno 28 giorni di incubazione vuol dire che se io prendo il l'utente il lead il primo gennaio faccio esempio tu lo convertirai il 28 barra 29 gennaio e immediatamente potresti dire non c'è nessun tipo di problema sì ma per avere un continuo flusso vuol dire che nel mentre devi tenere le campagne pubblicitarie attive o anche se le spegni comunque sai che molto probabilmente ma non hai la certezza matematica perché come sempre ci vorrebbe la sfera di cristallo però se qual è la tua tempistica di incubazione sai che andresti a incassare ipoteticamente dopo 29 giorni bisogna vedere se hai una forza di cassa per resistere tutto quel tempo ok va benissimo anche per chi parte quindi chi all'inizio perché non richiede una struttura immensa non richiede un background di un certo tipo eccetera eccetera ok e poi è una tipologia di funnel veramente applicabile a qualsiasi mercato potrebbe andare benissimo al di là degli infoprodotti consulting dove è veramente facile immaginarlo e poi adesso ti farò vedere anche un esempio di struttura anche per gli e-commerce ok non è da escludere perché potrebbe essere un VSL funnel dove vai a educare il tuo potenziale cliente e riduci quella tempistica di aiuto quella tempistica di conversione ok detto ciò andiamo a vedere come è strutturato un VSL funnel allora il VSL funnel è strutturato in questa maniera molto semplice hai una landing page dove le persone possono atterrare quindi gli utenti ok qui che cosa trovano una pagina di opt-in ok dove ti dico subito attualmente sta funzionando meglio così dopo la pandemia l'utente ha meno tempo meno distrazione eccetera eccetera c'è una headline qui ti invito ad andare a vedere il modulo sul copywriting ok sul deep focus il copywriting quindi non ci ritorno comunque un titolo efficace ha successivamente un video ok video che deve avere la durata di 15 minuti al massimo io ti suggerisco di stare ancora più breve ma può essere che all'inizio serva più tempo per capire per educare l'utente poi con l'esperienza andrai sempre più in modo conciso ma efficace ti cito ad esempio il mio VSL dura 3 minuti dice tutto e converte la grande ok ovviamente non è nato al primo tentativo è frutto di tanti tentativi e ovviamente di miglioramenti ok e successivamente abbiamo il calendario o comunque scriviamo calendario per call ok l'obiettivo del VSL funnel qual è spedire ovviamente delle inserzioni quindi del traffico ok cerchiamo qui add tanto per darci un riferimento faremo partire delle nostre inserzioni con tutte le strategie che ovviamente hai appreso ormai arrivato a questo punto qui sul nostro programma ok e con queste strategie andiamo a portare le persone direttamente nella landing page ok nel nostro VSL funnel perché viene chiamato VSL funnel perché ovviamente abbiamo questo elemento che è l'elemento chiave più di tutti che è il video ok dove andiamo a convertire quel potenziale cliente quel prospect quell'utente che in questo momento ancora non ci conosce in persona interessata a prenotare una call. ora per prenotare la call io ti suggerisco di utilizzare strumenti come Calendly che sono efficaci hanno dei costi accessibilissimi parliamo di una decina di euro al mese e ti permettono di configurare totalmente quello che è il tuo calendario con le tue disponibilità. una volta fatto questo ovvero dopo che visionano quello che è il video ok il VSL funnel vanno in thank you page ok la thank you page che cos'è una pagina di conferma prenotazione quindi come vedi è un funnel super semplice e anche qui abbiamo degli elementi chiave sicuramente serve e questo è non non discutibile questa ci deve essere una headline che confermi l'azione fatta ok spesso le persone hanno paura di aver sbagliato hanno paura di finire in siti loschi tu parti sempre dal presupposto che gli italiani sono veramente tanto diffidenti ok e se avvierai le campagne pubblicitarie per te per il tuo business per il business dei tuoi clienti eccetera eccetera ti accorgerai subito di questo. hanno paura di cliccare di capitare in pagine che non conoscono di lasciare i dati chi che sia non si sa dove ok quindi è fondamentale che in questa pagina di ringraziamento che sia super semplice ci sia un headline che conferma l'azione fatta quindi grazie per aver prenotato la call successivamente una cosa che ti suggerisco di fare è quella di inserire un recap delle istruzioni ok quindi recap istruzioni call ovvero per esempio dove sarà fatta la call se sarà fatta su zoom quanto durerà se si deve trovare in un ambiente tranquillo ad esempio se può portare dei soci ok quindi ti conferma di aver fatto l'azione giusta ti do recap e poi mettere un elemento grafico che possa ovviamente far associare il tuo brand quindi potrebbe essere il tuo logo la tua foto se lavori con il tuo personal brand. infine non meno importante andiamo a inserire qualora tu ce l'avessi ok questo è importantissimo se ce le hai testimonianze ok testimonianze feedback fondamentale perché in questo modo la persona che processo vive. ho fatto la cosa giusta ho prenotato ho avuto conferma di aver compiuto quest'azione corretta ho un recap di che cosa mi aspetterò elemento grafico quindi branding ok che può essere il logo che può essere una tua foto che può essere una foto del prodotto testimonianze e feedback questo è il vsl funnel quindi come vedi è un funnel veramente molto semplice sulla carta ok successivamente che cosa succede? una volta che la persona avrà prenotato quella che è la call ovviamente questa call bisognerà farla ok e anche qui voglio darti alcuni tips la call ti suggerisco di farla direttamente su zoom ok o su piattaforma analoga quindi potrebbe essere google meet potrebbe essere qualsiasi piattaforma whatsapp video anche se vuoi ok fare call con video questo è importantissimo importantissimo perché partiamo da un presupposto al cellulare ormai pochissime persone rispondono a numeri di telefono che non riconoscono quindi molto probabilmente quella persona poi ti ignora ok seconda cosa non riesci a raccogliere tu in primis tantissimi dati su quella persona c'è un aspetto diciamo empatico potremmo proprio dire così che ti colloca ti permette di capire tantissime informazioni sulla persona che hai davanti no potresti capire se quel potenziale cliente ti piace capire se quella persona effettivamente è interessata oppure no capire se smette di ascoltarti vedere se si distrae perché comunque magari sta facendo altro se entra qualcuno nella stanza che la distrae ok quindi questo è un altro aspetto importantissimo e poi che a mio punto di vista è quello che pesa più di tutti fare la call con video è fondamentale perché crei rapport ti vede tu ti vedi vedi lui vedi come gesticola la comunicazione non verbale oltre a quella verbale hai la possibilità di creare rapport e questo è fondamentale spesso ricevo persone in consulenza visiono il marketing di aziende e vedo che ancora fanno le chiamate al telefono sì bellissimo ma poi vedi che lo show up rate è bassissimo ovvero le persone non si collegano non riescono a creare rapport non riescono a fidarsi non sanno neanche chi hanno dall'altra parte ok immagina un personal trainer che prova a vendere al telefono non sa neanche la persona che ha davanti che cosa sta vivendo quel suo aspetto fisico e ovviamente a meno efficacia poi il pitch di vendita ok perché effettivamente come fai a dire chi sono io come sono fatto eccetera eccetera questo è solo uno degli esempi fare le call con video è fondamentale per creare rapport e soprattutto è il metodo che hai più possibilmente è il metodo che hai più vicino a un colloquio dal vivo ok quindi questo è fondamentale perché hai la possibilità di fare un ricavo immediato perché capisci bene che accendi le ads atterrano calendario con disponibilità 5 a 7 giorni ok in modo tale che la tua esposizione non sia eccessivamente ampia dobbiamo limitarla questa cosa puoi valutare di tenere magari più aperto se ci sono le festività c'è natale ponti e quindi bisogna di tenere più aperto le persone prenotano bam ti arrivano in call fai il tuo lavoro chiudi ok quindi questo questo flusso qui può durare anche due giorni noi stessi abbiamo le ads continuamente attive sul nostro vsl funnel entrano col tutti i giorni anche per il giorno dopo quindi potenzialmente la tempistica l'incubazione potrebbe essere anche 24 ore ok è un funnel faccio uno zoom in meno veramente veramente snello ok ovviamente una cosa che voglio sottolineare è questa non creerai il vsl funnel perfetto al primo colpo e nemmeno devi aspettare di farlo perché uno perché se aspetti di creare il vsl funnel perfetto non lo farai mai non lo non lo metterai mai live non lo renderai mai pubblico ok e questo è un peccato due è un work in progress questo qui è attualmente il mio vsl funnel ok come vedi rispecchi esattamente quello che ti ho detto ok super snello come vedi qui c'è il calendario la persona può prenotare tutto quanto avere tutte le sue domande eccetera eccetera super veramente super snello minimalista ok sta funzionando in modo eccesso domani smette di funzionare ok mi metterò lì e lo ricreo lo sistemo lo miglioro ma questa non è né la versione migliore perché è sempre migliorabile sulla base dei feedback anche quelli che ti dà il mercato e soprattutto questo è sarà il mio centesimo vsl che ho scritto per me per i miei clienti per i miei colleghi eccetera eccetera quindi c'è anche tutto quello scorso di esperienza ok ora quello che voglio che tu vada a fare è studiare in modo importante questa video lezione riguarda la più volte deve esserti veramente chiaro il meccanismo del vsl funnel come ti dicevo prima può essere applicato a business già in essere business che stanno partendo business nascenti business con un importante storico possono essere e può essere applicato sia ad e-commerce che infoprodotti non c'è non c'è nessun tipo di problema ok potrebbe essere appunto utilizzato anche a un e-commerce perché magari il prodotto che vendi è o che il tuo cliente vende è talmente particolare che ha bisogno di un'educazione allora benvenga questo video di 15 minuti massimo 15 minuti attenzione ripeto il mio dura 3 minuti però come ti dicevo è veramente frutto di tantissima esperienza i miei primi video sl duravano anche 20 minuti ma oggigiorno l'utente 20 minuti non ti riguarda e altra cosa importantissima che ti suggerisco non mettere il timer ma metti direttamente la possibilità di prenotare la consulenza in modo immediato ok in modo tale che la persona coinvolta la persona che è stata catturata dal tuo messaggio non debba per forza stare lì ad aspettare ore e ore minuti e minuti che poi finiscono per allontanare quella persona ok quindi riguarda in modo importante questa video lezione fai in modo che ti sia chiaro tutto il processo nella sua semplicità i punti di forza e il discorso di branding perché ovviamente offrendo questo video vieni collocato come un esperto del settore viene dato un determinato rilievo e poi puoi passare alla prossima tipologia di funnel ovvero il webinar funnel che come abbiamo detto prima è un'evoluzione vsl che è un'evoluzione vl